Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che abbiamo già visto in passato tante volte, trovate ad esempio una recensione qui sopra. Questa è la prima maglia dell'Arsenal, in versione player, quella indossata dai calciatori, questa volta a manica lunga. Grazie a tutti. I colori dell'Arsenal e di questa maglia mi piacciono particolarmente. Questo color crema oro, veramente molto bello e bella la maglia in genere. Il costo lo vedete qui sopra, forse questo ancora più bello. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere sul sito perché insieme a questa troverete tantissime offerte che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però mi raccomando iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto ma ci aiuta a mostrarvi recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima!